Un unico seggio a Piacenza per oltre 1300 soci di cui circa la metà costretti a fare centinaia di chilometri di strada per poter votare. La denuncia arriva da Coldiretti Pavia all'indomani delle elezioni del Consiglio di Terre Padane, il consorzio agrario che ha riunito come noto in un unico ente quelli di Piacenza, Milano, Lodi e appunto Pavia, con gli emiliani a fare la parte del leone. Il risultato delle elezioni, che ha visto la riconferma dell'ex presidente Marco Crotti, non è però piaciuta ai pavesi di Coldiretti che sostenevano una lista contrapposta e che oggi parlano di procedure poco credibili adottate in nome del rispetto delle norme anti-Covid. In particolare l'accentramento delle votazioni a Piacenza, il no al voto elettronico e alla possibilità di delega da parte dei soci e da ultimo l'annullamento di 300 voti lombardi vidimati da studi notarili e recapitati nel capoluogo emiliano. Sono stati esclusi innanzitutto 900 soci che avevano chiesto l'ammissione come nuovi soci. In più sono state cancellate decisioni senza motivazione da parte del presidente di 443 deleghe, quindi 443 persone che non hanno potuto esprimere la loro opinione di voto. Questo è veramente uno schiaffolo a democrazia ed è una brutta pagina per il mondo agricolo. Sullo sfondo, ma neanche troppo, di questa battaglia la visione contrapposta fra Pavia e Piacenza su un punto centrale del momento, l'annessione di terre padane alla nuova federazione nazionale CAI-SRL o Consorzi Agrari d'Italia, dove sono già confluiti i consorzi Adriatico, Centro-Sud, Tirreno ed Emilia, oltre al colosso delle sementi bonifiche ferraresi S.P.A. L'ingresso di terre padane nella federazione, caldeggiato da Coldiretti, è sfumato quindi con l'elezione di Marco Crotti, che si era sempre detto contrario a questa operazione, così come gran parte del mondo agricolo piacentino.